LARRY CROWN Non ti ho mai visto nel parcheggio. Sei un ex poliziotto. Cosa te lo fa pensare? Tutti qui? Nove? Scusate, lo Stato richiede un minimo di dieci studenti, quindi questo corso è cancellato. Grazie. È qui il linguaggio 2.17? Adesso ognuno di voi ci dirà come si fa una cosa che già sa fare. La frittata. Il prossimo. Devo rispondere. Mi chiedo se ho il minimo effetto su almeno uno della mia classe. Guardate il vostro pubblico. Cominciate da un lato e guardate negli occhi il primo che vi capita. Salve. Ciao. Se vuoi far colpo sulla prof, ti serve un nuovo look. Sei molto più figo di quanto sembri. Ma guarda chi sta aspettando l'autobus. Lo vuole un passaggio? Va bene, ma non metterò mai quel secchio sulla testa. Non ho mai portato nessuno. Voglio essere sicuro che sopravviviamo. Con la marina ho fatto il giro del mondo cinque volte, ma non sarei mai stato in grado di comunicarlo a tutti voi se non avessi seguito un corso come questo. Tu lavori qui. È la mia identità segreta. Sì. Spettacolare. Ti va di baciarmi? Come sei carino. Ti vedo. Ti va di baciarmi? Ti va di baciarmi? Ti va di baciarmi? Ti va di baciarmi?